Il fatto di all'interno del tuo mondo per forza ti scegli, dover scegliere su che cosa devi andare a fondo, la tentazione è sempre dire no, su questa cosa sono a livello troppo alto, dovrei saperne di più per prendere delle decisioni più consapevoli. Devi accettare il fatto che su alcune cose non sarai mai il più bravo. È responsabilizzarsi in un ruolo un po' diverso, che non è l'essere il guru di tutte le cose singole, ma avere una visione veramente un po' più alta e fare in modo che sia un team che si prenda responsabilità condivise. Quindi ti aiuta a toglierti qualche cappello. Eccoci qua in un'altra bellissima puntata del CTO Show, dove oggi parleremo del One Man Band CTO, cioè il CTO che ha troppi cappellini, fa troppe cose e purtroppo sono anche forse un po' la maggior parte del CTO a ritrovarsi in questo tipo di situazione. E lo facciamo con Fabrizio, Fabrizio Guglielmini, che è il CTO di Brandon, che ha appunto a dirci un po' di cosette su questo tema. Ma innanzitutto lascio che sia tu Fabrizio a introdurre te stesso. Ciao Alex, grazie dell'invito. Dai, ti racconto due cose, anche perché è nata l'idea di fare questa chiacchierata insieme. Io sono CTO di Brandon da un pochino, praticamente da quando Brandon è stata fondata. Mi sono messo ampiamente fuori dalla mia comfort zone, perché vengo, come tutti quelli che fanno il mio mestiere, da fare solo e soltanto del software, nel mondo del software, e farlo per una scosta di servizi e averla portata a fare tutto quello che facciamo online è stata una bella sfida, una bella avventura. E l'argomento della chiacchierata nasce anche da tutti i confronti che si fanno tra quelli che fanno il mio mestiere, che sono anche i tuoi ospiti e le cui interviste ho anche guardato, proprio per capire veramente cosa fa ciascuno di noi. Quindi quando ci confrontiamo, che teoricamente facciamo lo stesso mestiere, poi in realtà sembra che facciamo tutti un mestiere diverso. E quindi nasceva un po' da lì il fatto di dire, beh, ma forse sarebbe sufficiente fare di meno. La mia idea, cioè quello che ho sviluppato io, che tutto sommato il fatto di avere una visione tecnologica e essere sicuri che il posto per cui si lavora e dove si lavora sia abbia una roadmap, un team e un budget degli strumenti per portare avanti questa visione tecnologica, secondo me è già tanto. Cioè basta. Tutto quello che si fa oltre quello, secondo me lo si fa per andarsi a ricercare magari delle piccole aree di comfort dove ti rimetti a fare delle cose, non so, a studiare alcune cose che comunque continui a fare, o piuttosto che a svilupparne altre, piuttosto che a fare alcuni progetti che ti piacciono di più. Però non devono mai togliere il focus da questa cosa qua, che secondo me è quello che deve essere il focus del ruolo del CTO. Tutto il resto è bellissimo, è fantastico, tante cose si continuano a fare, cioè con delle più si continuano a fare, studiare si continua a studiare sempre, tanti progetti si continuano a fare, però non devono togliere dal focus che è avere in testa una roadmap e essere sicuri che la roadmap è quello che serve all'azienda e avere i mezzi per farla, quindi le persone, i processi, il budget, eccetera, basta. Sì, sì, ma decisamente, infatti diciamo che poi anche molti, cioè la maggior parte di quelli che poi a un certo punto diventano CTO, o comunque ruoli di leadership tech, ci arrivano dopo una carriera da magari sviluppatore, magari anche bravo, quindi comunque rimane sempre un po' quell'entusiasmo, quella voglia di scrivere codici, di fare, e molte volte non si rende conto, queste persone in primis, che avere questo tipo poi di ruolo fa sì che si debba dedicare più tempo ad una serie di altre questioni, anche il tempo per aggiornarsi potrebbe essere un pochino di meno e soprattutto magari il tempo per essere hands-on, magari sì, quando sei in fase di start-up ci sta, ma poi man mano che l'azienda si evolve e quindi va in stadi successivi, anche il ruolo del CTO si deve evolvere e sempre di più si deve concentrare su alcuni temi che sono esattamente quelli che hai detto tu, ma tra l'altro mi chiedevo, ad esempio proprio nelle tue esperienze hai avuto un po' questo problema qui, anche magari nei primi anni da CTO oppure in contesti differenti o l'hai visto più che altro all'esterno? Ma è un po' tutti e due, adesso mentre parlavi mi veniva in mente il classico uno bravo a scrivere il software, gli cambiamo ruolo finché non scrive più il software, che se vuoi è una cosa un po' strana, per contro poi è anche un'evoluzione che fanno in tanti, tipo la storia del livello di incompetenza di Peters, dove dicevi, ti cambio ruolo finché finalmente ho trovato qualcosa che non sai fare e a quel punto non te lo cambia più. In realtà sia vissuta che sentita, da una parte perché, ripeto, fondamentalmente chi fa questo ruolo secondo me è bene, ha comunque un background che è il 100% tecnologico, nel senso che ha mangiato, mi ha mangiato codice per tanti anni, per tanto tempo, ha perché ti piace e secondo me quando riesci ancora ad avere quella parte dove tu hai un problema e lo risolvi e sei nella tua zona dove non c'è niente, nessuno, se non tu e il tuo problema e arrivi a risolverlo, chi fa questo mestiere cioè ti dà delle endorfine che secondo me sono il pane di chi fa questo mestiere qua, quindi è difficile non farlo più. Anzi, ti rendi conto che tante volte dai il lavoro più bello agli altri e ti tiene il più brutto per te, che è bello nel ruolo servant leader, il facilitatore, quindi leader moderni che devono essere fatti così, quindi funziona, funziona bene, funziona bene per le persone che hai intorno, magari in certi momenti funziona meno bene per te, perché ti rendi conto che forse ci sono alcune cose che non vorresti davvero smettere di fare, però è giusto che tu smetta di farle per un bene superiore, fammi dire. Questo sicuramente. Poi, non lo so, dipende anche, ti faccio magari degli esempi concreti, la parte legata alla data science nel mondo dell'e-commerce ti apre un mondo di cose da studiare nuove che non sono davvero il tuo mestiere e quindi se vuoi anche un po' ritornare indietro dove studi, ti informi, studi una soluzione, fai un POC per gli affari tuoi, ci sbatti la testa, ritorni a un livello in cui ti rendi conto di essere meno bravo di quello che sei su cose che conosci meglio, però ti permettono comunque di creare valore e di divertirti allo stesso modo. Spero più o meno di averti risposto. Sì, sì, decisamente. Poi tra l'altro l'intramontabile principio di Peter è una cosa che effettivamente si pone tutte quelle volte in cui in un'azienda non si comprende del fatto che ci debba essere un dual track diciamo così nella progressione di carriera di una persona che è tecnica che non per forza per essere promossa deve diventare manager magari può continuare nel suo track tecnico e poi ci dovrebbe essere un track differente per chi vuole sperimentare una carriera più manageriale e giustamente no, come hai detto tu, spesso si lascia magari anche le cose che piacciono di più e allora lì per capire se anche fare esempio il CTO o comunque anche figure vuole anche intermedi e già sempre porsi una serie di domande perché se poi non se le si pone ecco una delle conseguenze anche quella di andare a fare la persona con i mille cappelli perché hai tante responsabilità vuoi continuare a fare delle cose nella quale si è nella tua comfort zone quindi diciamo che innanzitutto sicuramente bisogna chiedersi se piace risolvere problemi o se si preferisce aiutare gli altri a risolverli perché già cambia abbastanza diciamo che sicuramente una persona che nasce tecnica tendenzialmente nel nostro settore è un grande problem solver deve capire se vuole risolvere anche problemi degli altri aiutarli può essere una sfida molto interessante anche quella poi anche se può portare un impatto positivo nel gestire persone fare context switching facilmente oppure se si riesce a tarare anche un proprio comportamento non in base al proprio umore ma in base a quello che richiede la situazione morbido quando serve morbido duro quando serve duro non in base se mi sono svegliato male o bene la mattina queste sono sicuramente delle domande che ci deve porre dico questo qui un po' visto che hai citato il principio di Peter che poi come corollario come al solito ha che di conseguenza gli uomini che fanno il lavoro sono quelli che sono gli altri che sono bravi e sono magari non riconosciuti no assolutamente dire che hai detto tante cose interessanti che mi fanno venire in mente un po' di cose innanzitutto quando tu dici lavorare con gli altri vuol dire anche avere la stima da parte degli altri quante persone tecniche tu conosci che hanno davvero stima professionale di persone non tecniche giusto o sbagliato che sia però è così quindi questo mi è capitato tante volte paradossalmente facendo i colloqui di lavoro dove devono cercano magari un engineering manager e il problema che hanno con il loro attuale engineering manager è che i membri del team fondamentalmente non ne hanno stima e questa cosa è come fai a mantenere stima e credibilità nei confronti di un team tecnico pur dovendoti comunque anche relazionare quotidianamente con persone di business e comunque devi trovare un buon bilanciamento fra queste due cose perché altrimenti non funziona o da una parte o dall'altra poi anche quanto quindi quanto devi essere come dicono quelli bravi t-shaped quanto di essere molto bravo a fare una cosa oppure quanto devi essere un tecnico ma fondamentalmente un contributore individuale e quanto invece sei bravo a lavorare con gli altri alla fine detta in maniera molto se vuoi numerica brutale quello che ti interessa è tutto sommato è il throughput del tuo sistema team il contributo individuale è molto bello quando è parte di un contributo di team che funziona quando è un contributo individuale che non è parte di un contributo di team che funziona alla perfezione comunque vale di meno poi dopo per carità ci sono anche persone più portate meno portate secondo me non c'è nessunissimo non è neanche giusto il fatto che un bravissimo contributo individuale abbia magari la sua carriera cappata in un certo modo perché devono tutti fare il gestore di qualcun altro no non è vero e poi magari gli stipendi funzionano così e quindi uno giustamente il ragionamento lo fa però in realtà ci sono bravissime bravissime persone che lavorano in team bravissimi contributori individuali che non vogliono non possono non devono fare un step perdendo quella che è la loro peculiarità per diventare uno dei tanti a fare un altro tipo di lavoro cioè se sei bravo a fare una cosa è giusto che tu sia messo in un contesto dove il fare bene quella cosa funziona bene piuttosto che invece cambiare per forza finché come dicevamo prima non becchiamo dove non sei bravo e non ti spostiamo più quella sì sì è la fine quella ma infatti guarda quello che hai detto mi hai fatto venire chiaramente due cose intanto anche sul tema del rispetto che poi era anche una delle cose di cui volevamo parlare per esempio il caso che hai fatto dell'engineering manager dovrebbe vedere qual è stato un po' il suo trascorso diciamo che anche se si dovesse portare avanti un po' quel concetto di dual track di cui parlavo tendenzialmente chi parte verso una carriera manageriale comunque dovrebbe partire essendo già almeno un livello diciamo senior come contributor individuale perché altrimenti magari fa il manager di figure tecniche senza avere le basi tecniche e allora lì è anche un po' difficile guadagnarsi il rispetto dopo i soliti stereotipi che ci sono in questo mondo e quindi questo qui è sicuramente una parte che vedo un po' critica in alcuni casi quando magari si parte dritti su un certo tipo di carriera poi c'è a dire che in realtà nella mia esperienza molti bravi manager in ambito tech erano falliti tra virgolette come carriera di programmatori e in realtà erano bravissimi a gestire le persone e infatti la seconda cosa che mi è venuta in mente è questa che effettivamente chi si occupa di management gestisce persone che poi è il problema principale nel modo tech più no che gestire la tecnologia perché problemi tecnologici più o meno li sappiamo risolvere in qualche modo ci si arriva invece chi è un individual contributor man mano che cresce la sua esperienza ad un certo punto avrà a che fare sempre con le persone ma non in termini di gestione ma magari di mentoring cioè la persona più brava magari dà una mano a quella un po' più junior ma non nel senso di digestirla è un po' questo il concetto allora hai detto una cosa che condivido tantissimo e una che condivido meno nel senso il discorso del mentoring è fondamentale per esempio il per programming funziona benissimo per parlare di pratiche concrete aiuta tantissimo le persone nuove a inserirsi e aiuta in generale in generale le persone a non personalizzare troppo i problemi che stanno avendo perché comunque questa è una riflessione che ho fatto perché noi abbiamo dei sistemi live 24, 7, 365 dal quale passa il 95% del business della nostra azienda ed è una grossa responsabilità e non bisogna sottovalutarlo quindi il fatto di evitare che da una parte sei un contributo individuale ma dall'altra non hai se hai un problema non è un problema solo tuo hai dei compagni di team che lo vivono con te e trovare un bilanciamento tra queste due cose è fondamentale perché altrimenti è molto ingiusto quello che si butta sullo sviluppatore che se vuoi ci sono tante pratiche non so DevOps fatto male vuol dire buttare su chi fa software anche il ruolo delle operation il full stack fatto male vuol dire buttare 27 tecnologie su una persona invece di 4-5 quindi in realtà secondo me c'è tanto carico di stress soprattutto verso chi scrive del software bene perché ci tiene e è bello che ci sia tutto sommato uno solo va anche a cercare ma non deve essere mai una cosa che è individuale cioè comunque è bello la collective ownership all'interno di un team è fondamentale perché ti aiuta a non fondamentalmente avere dei problemi che sono solo tuoi perché non è giustissimo ecco questo 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 sicuramente e dall'altra parte il fatto di vedere il management per forza e solo come people management è molto limitante perché tanti manager sono secondo me dei manager limitati proprio perché sono solo people manager mentre in realtà in pochi hanno voglia di essere process manager o comunque engineering manager per tornare all'interno specifico del mio mestiere e quindi bisogna ricordarsi che si è soprattutto engineering manager cioè la parte di people management tutto sommato è una conseguenza o comunque non è la parte centrale delle responsabilità e va inteso come parte di essere owner di un processo che comprende anche le persone ma non solo comprende tutto quello che serve a mettere a terra delle cose tra cui c'è anche la decisione delle persone ma ma non solo invece tante volte quando il il management diventa solo e soltanto people management è anche molto sterile secondo me per quella che la mia esperienza pone le basi per un po' di problemi tra cui quello della stima reciproca di più sopra sì sì adesso non intendevo nel senso che dopo diventa una funzione HR sempre in ambito gestione tech è chiaro che c'è una parte di gestione delle persone perché ad esempio l'engineering manager è una delle cose che è emerso in tante chiacchierate fatte è una delle cose che spesso fa ad esempio sono gli one on one con il team sono uno strumento di diciamo di gestione molto importante però no assolutamente sono d'accordo che è una sfaccettatura nel gestire anche il processo in sé questo assolutamente siamo perfettamente in linea e anzi su questo mi fa anche ritornare sul discorso quanti sono appunto i cappelli che una persona a certa volta si mette e dovrebbero essere limitati allora anche qui volevo capire con te anche un altro concetto che una chiacchierata che aveva fatto precedentemente era venuto fuori che anche questo che è molto ricorrente un po' si ricollega anche il discorso della sindrome dell'impostore che ha un po' un ruolo in questa cosa qui mi raccontavi qual è la tua visione in questo senso? questo è interessante perché la vivo io mi iscrivo assolutamente all'albo di quelli con la sindrome dell'impostore proprio perché il fatto di vedere tante facce dello stesso problema quindi la gestione delle persone la gestione dei processi la parte architetturale la parte tecnologica l'infrastruttura e la conoscenza specifica di alcune cose dell'infrastruttura quindi o alcuni framework o alcune cose di alcuni vendor molto vendor specific quindi il fatto di all'interno del tuo mondo per forza t-shaped quando dover scegliere su che cose devi andare a fondo la tentazione è sempre dire no su questa cosa sono a livello troppo alto dovrei saperne di più per prendere delle decisioni più consapevoli che ovvio che fa pugni col fatto del devo sapere tante cose devi accettare il fatto che su alcune cose non sarai mai il più bravo anzi peggio ancora se il più bravo a fare tutto è un disastro il che ritorna al discorso one man band cioè o sei molto bravo e non sono io oppure hai un problema perché in ogni caso sarai sempre tu un limite ma poi non hai neanche un contraddittorio sensato fondamentalmente si fa sempre come dici tu quindi hai un confronto ma per poi arrivare a fare sempre soltanto quello che pensavi fare anche prima di aver avuto un confronto questa cosa si aiuta quindi le architetture non vanno cioè nascono sempre secondo me da un discorso di team è chiaro che poi c'è l'ownership di qualcuno che decide e si prende la responsabilità della decisione più che decide si prende la responsabilità della decisione ma una decisione condivisa perché sull'architettura non sai solo tu quello che sa le cose ma le sanno anche gli altri quando si parla di implementazione dell'architettura quindi vai magari a scegliere il servizio cloud specifico del vendor specifico e lì non sarai certamente tu che sai meglio se devi usare che non so DynamoDB o DocumentDB o usare MongoDB su Atlas perché devi sapere tante cose di dettaglio e non è detto che sia sempre tu anzi è impossibile che sia sempre tu che sa tutte le cose di dettaglio per prendere la migliore decisione possibile e quindi devi smettere di sentirti inadeguato perché ah no però io non so conosco MongoDB conosco DynamoDB ma non conosco DocumentDB magari è giusto ma magari su GCP c'è un servizio manager di Mongo più bello ma magari cioè così non vivi più quindi in realtà è responsabilizzarsi in un ruolo un po' diverso che non è l'essere il guru di tutte le cose singole ma avere una visione veramente un po' più alta e fare in modo che sia un team che si prenda responsabilità condivise quindi in questo modo non ti metti fuori da niente ma non ti metti dentro da solo in un problema che diventa solo tuo e quello che dicevo prima e del quale non hai veramente la possibilità di risolverlo assieme a qualcun altro quindi ti aiuta a toglierti qualche cappello è chiaro che poi i mille cappelli vengono fuori tantissimo negli annunci di lavoro quindi non ti nego che io odio LinkedIn anche se noi ci siamo conosciuti su LinkedIn però il fatto di quando vedi le job offer guardi quante cose ci sono scritte dentro due domande te le fai nel senso che chi l'ha scritta sa esattamente cosa vuol dire quella riga al di là di quello che si scrive di quello che in realtà comporta e quindi a tutto sommato anche chi fa hiring deve mettersi nell'ottica di dire devo scegliere non posso prendere uno che è bravissimo su tutto cioè puoi scriverla quella cosa possono anche arrivarti dei CV secondo me stai perdendo del tempo se troverai quella persona ben per te ma secondo me non esiste non ce ne sono così tante no no già per quegli sviluppatori i classici annunci sono terribili quelli per la CTO figure manageriali non ne parliamo al punto che ho dovuto creare proprio uno specifico servizio per aiutare le aziende solo a sistemare questa cosa qua perché proprio non si possono guardare infatti non funzionano porre un po' quel elemento che dico che il CTO è il moderno unicorno ma così li facciamo fuggire ancora di più sono assolutamente d'accordo peraltro una delle questioni che forse stanno anche un po' dietro al fatto di accollarsi tutti questi cappelli è unito al discorso anche sindrome dell'impostore che quella penso che più o meno ce l'avranno ce l'hanno un po' quasi tutti farebbe strano qualcuno che non ce l'avesse il nostro settore è il fatto comunque di mantenere quel retaggio da sviluppatore o comunque degli step che sono fatti prima quando dal mio punto di vista a un certo punto il CTO o anche figure intermedie dovrebbero comprendere che il loro primo team non è il team tech proprio quello diciamo di sviluppo il primo team soprattutto il CTO è il team la C-suite la board gli altri dirigenti ad esempio e il secondo team e poi è quello tech quindi dovrebbe mettersi un po' nell'ottica che innanzitutto il suo valore lo può dimostrare se la questione è dimostrare il valore autorevolezza con la parte business poi nella parte tech man mano che l'azienda cresce ci dovranno essere persone delegate che saranno l'architetto software l'architetto cloud che saranno sicuramente a quel punto anche molto più bravi del CTO e CTO non si deve fare un problema da questo punto di vista se no allora ritorniamo proprio esattamente a quello che dicevi tu dopo allora non riesco mai a dire di no perché devo informare devo sapere io la cosa no questo è un processo mentale importante al quale bisogna arrivarci capire che è cambiato il ruolo e non bisogna dimostrare di essere bravi tecnicamente fino all'ultima riga di codice o a prendere delle decisioni che qualcun altro di ormai specializzato può fare per te allora a questo punto collegandosi no anche un po' a una cosa che è venuta fuori prima che volevo chiedere proprio a questo punto come si mantiene però un'autorità barra attorevolezza in un team che a quel punto magari è diventato un team pieno di altissime skill tecniche come la vedi anche questa parte qui questo si ricollega a una cosa che adesso in Brandon stiamo facendo che è da una parte lavorare bene come executive team quindi anche il farsi la domanda lavorare bene come executive team questo ti fa pensare poi a quanto tu vuoi che dei ragionamenti che si fanno a livello di executive team in realtà diventano poi delle cose che si calano anche sul tuo team tecnico perché secondo me le persone brave soprattutto di alto profilo vogliono essere coinvolte cioè hanno bisogno di avere sempre di più l'idea di intent cioè deve sempre diventare di più una condivisione di obiettivi di alto livello perché da una parte è quello che le persone brave vogliono cioè essere all'interno di una strategia sapere sempre il perché perché tutti hanno il ricordo dello sviluppatore quando il cliente ti chiamava e dovevi mettere il bottone in quel posto lì perché l'aveva chiesto il cliente e per te era la cosa più stupida dell'universo quello è un buon esempio perché poi in realtà Tarpi tante volte le ali ha la visione tecnica di un problema che ti permette di pensare anche a delle soluzioni una cosa che io sto cercando di fare con il mio team è anche noi dovremmo avere una track di feature di business che nascono solo e soltanto da noi ma perché noi abbiamo un sacco di idee intelligenti noi abbiamo un po' di algoritmi con un po' di cose che sicuramente possiamo fare meglio abbiamo delle idee però magari non abbiamo il tempo di svilupparlo oppure ci aspettiamo che la track di prodotto arrivi dal prodotto mentre la tecnologia non può avere una track di prodotto sua se non robe di ciore che non interessano mai niente a nessuno tipo migrare su cose che a noi piace sempre tantissimo tutta la dentro tecnologie nuove eccetera che se vuoi è un altro modo per tenersi le persone brave noi cerchiamo io ho sempre cercato di introdurre spesso tecnologie nuove ma non just because perché comunque dietro c'è un vantaggio però una persona brava a mettere le mani in qualcosa di nuovo imparare magari ok migriamo su un altro provider cloud tre servizi perché in realtà sono scalano in maniera più cost effective rispetto a quelli che abbiamo adesso lì io sto sia risolvendo un problema dell'azienda nel senso che sto migliorando una KPI che a me interessa che è la scalabilità intesa come cost effectiveness sto buttando dentro una tecnologia nuova che quindi magari mi abilita a fare anche altre cose un domani perché comunque la conosco e sto interessando da morire da una persona che ci mette le mani perché ogni volta metti le mani su qualcosa nessuno vuole rimanere sullo stesso stack tanto tempo che poi fondamentalmente la gente non cambia lavoro solo perché da un'altra parte ti danno il 15-20% o in più ma anche perché dopo un po' che sei sullo stesso stack ti annoi per dirla in maniera molto educata e quindi il fatto di vedere la tecnologia le persone brave vogliono giocare con la tecnologia e quindi dobbiamo continuare non dobbiamo perdere mai la voglia di giocare con la tecnologia io vedo non so mio figlio che col covid era a casa non poteva andare a scuola e c'era un arduino in un cassetto e si è messo a smanettare quell'arduino guardandolo pensavo cioè essere nella tecnologia è quella roba lì cioè quella parte lì dove quanta gente avrei parlato che smontava e rimontava le cose da bambino cioè quella parte lì non la devi mai perdere perché comunque è quello che come ti dicevo all'inizio ti dà delle endorfine alla gente tecnica e quindi devi continuare a farglielo fare a un livello sempre più alto quindi dargli degli intenti vuol dire anche responsabilizzare una persona dicendo ok tu sei bravissimo e vuoi prendere delle decisioni e adesso prendiamo delle decisioni che vuol dire anche appunto condividere la parte di decidiamo cosa fare decidiamo come farlo cercare di dare sempre più ownership che non vuol dire farlo scaricabarile ma vuol dire coinvolgimento a livello più strategico che è quello che la gente secondo me vuole fare e molto più di il ti faccio gestire altre persone che è una cosa che invece come avrei intuito a me non fai impazzire come concetto dico no ti do ti do un intent che è quello che serve ad un'azienda se poi dopo la soluzione sarà gestire altre persone sarà la soluzione non è che devi gestire altre persone perché appunto poi dopo smetti di scrivere il codice no voglio darti un altro Arduino su cui su cui giocare quindi abbiamo un po' di side project che cerchiamo che cerchiamo di fare poi va bene le tecniche sai il discorso del venerdì pomeriggio dove si cerca di non lavorare sulle feature ma lavorare su delle cose self assigned eccetera rientrano un po' in questi in questi discorsi qua sperabilmente o comunque ci si trova no sono molto d'accordo perché il tema della motivazione che è anche questo già importantissimo per gli sviluppatori ma anche qui per figure tipo CTO ha un aspetto veramente molto importante cioè io stesso qui ho una sberri e uno di questi cassetti so l'Arduino appunto e mi ci diverte anche io ogni tanto a fare delle cose no è anche importante avere dei pet project che sono cose che sicuramente tengono veramente vive persone come noi che adesso sono nate proprio anche mettendo le mani in circuiti o facendo ricerca facendo delle prove sono assolutamente d'accordo infatti questo qui della motivazione è un tema che davvero andrebbe spesso un po' indagato di più e tra l'altro sono anche delle cose che magari vengono chieste a un CTO che un po' lo stendono no cioè sono delle domande che non ne avrebbero fatte a un CTO probabilmente non so se te ne viene in mente qualcuna beh fondamentalmente diventi il riferimento cioè la tecnologia intesa come tutto quello che non facciamo già adesso quindi che è al di fuori della value proposition dell'azienda allora comunque la chiedo al CTO che è molto bello da un punto di vista di quanto ti stimano le persone ma soprattutto se è abbinato alla forma mentis di cui sopra è anche molto stressante perché vuol dire ok mi stai chiedendo una cosa che è sicuramente al di fuori di quello che c'entra con il mio mestiere e io non sono uno che riesce a dirti valla a chiedere a qualcun altro no non mi interessa imparatela da sola ok non so dare questo tipo di risposte per la sindrome di cui sopra quindi ah me la chiede quindi dovrei saperla e quindi parte un'altra vagonata di stress e di cose quindi in realtà ripeto magari c'è un libro molto bello che secondo me dovrebbe aiutare a gestire meglio queste cose qua poi dopo ne parliamo grazie molto molto volentieri anzi se vuoi puoi anche già consigliare un po' qualche risorsa è uno di quelli che ho già letto come consigliato da uno che da qualcuno che ha fatto le tue le interviste con te che è questo qua no era di calcando esatto che cioè nel senso aiuta a capire che ci sono dei modi molto costruttivi di dire dei no ma proprio molto costruttivi che in realtà aiutano te e l'altra persona ad andare velocemente verso una soluzione delle cose mentre o gestire comunque un conflitto in generale mentre è molto facile gestire le cose quando le cose vanno bene a me viene bene gestire le cose quando va tutto bene oppure fare la scena del pazzo quando le cose vanno male in realtà gestire far nascere da un disaccordo da un conflitto una cosa super positiva per entrambe le persone diciamo che leggendo sembra molto facile da fare provarci all'inizio è molto difficile non lo so fare ancora però spero di riuscire a imparare a farlo in questa vita è una cosa che auguro anche me stesso perché anche io ho delle carenze in quel settore infatti quello è il libro che sicuramente mi ha aiutato molto infatti Radical Candor è proprio un concetto molto importante spesso anche per figure nel mondo tech che magari in generale potrebbero avere qualche difficoltà a veicolare correttamente FIB perché magari un po' come se da una parte è il sindrome dell'impostore dall'altra magari c'è la sindrome del non voler ferire gli altri però certe volte dei feedback vanno dati e per il bene anche dell'altra persona innanzitutto quindi sicuramente quello lì è un libro molto importante c'è qualcun altro o qualche altra risorsa che vuoi consigliare è tutto collegato perché anche come vi ho detto prima l'hiring difficoltà di fare hiring quindi l'hiring tante volte word of mouth o gente del tuo network gente del tuo network sono magari a diversi livelli tuoi diciamo amici o comunque persone che conosci con cui gestire i conflitti è più difficile perché finché le cose vanno bene o le cose vanno male con una persona con cui hai un rapporto 100% professionale ma sai benissimo che siamo esseri umani le persone con cui hai avuto un rapporto lavorativo anche nel passato che è durato più di un tot hai un tot per cento che è rapporto umano amicale e gestirlo in maniera radical candor è la soluzione giusta per lui e per te che sia facile che sia facile no libri ne ho un sacco sì 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 allora sto leggendo adesso che è ancora finito questo che è modern software engineering di David Farley che è quello che ha scritto continuous delivery eccetera mi piace questo qua perché ha un bel livello di dettaglio secondo me il problema dei libri tecnici più è il fatto di se sono troppo generici dicono delle super grandi tautologie che sono tutte vere però ti lasciano poco se sono troppo dettagliati a meno che non siano la cosa che stai facendo tu in quel momento lì mi annoiano non dico annoiano magari la gente piace questo mi piace un sacco come mi piace non so Clean Architecture delle cose che che sono che sono passate da te di di Robert Martin adesso lui che vabbè è un mantra di Clean Coder sulle cose che sto vedendo adesso l'ho rivolutato tantissimo cioè ne ho rivolutato tantissimo l'importanza cioè quello serve veramente tanto le cose che sono scritte lì dentro secondo me per uno che fa del software servono sono le cose più importanti comunque più di qualsiasi al pari di qualsiasi conoscenza tecnica molto molto importanti invece non non di software che mi piace un sacco How Lives Imitates Chess di Kasparov che a parte che è un personaggio interessante to cure oltre che essere uno dei primi boh tre scacchisti forse lo scacchista più influente della storia degli scacchi io adoro gli scacchi sono un pessimo un pessimo autore fa tanti parallelismi fra il mondo degli scacchi e il mondo del business se vuoi per esempio una cosa molto carina è il concetto di tattica di strategia negli scacchi nel business cioè anche tu comunque fai delle cose tattiche per avere un beneficio nel breve ma se non hai una strategia negli scacchi vai poco lontano e nel business secondo me è uguale cioè tu devi scegliere tante volte quando accetti di fare un tatticismo perché è quello che ti serve in quel momento però di solo tatticismi se hai dei competitor che invece hanno una strategia dopo che ti hanno magari parti più veloce ma dopo che ti hanno superato non lo riprenderai mai più e quella roba lì secondo me funziona funziona è molto bello questo libro anche l'ultimo libro che ha fatto Kasparov che invece parla dell'intelligenza artificiale la storia degli scacchi contro i computer eccetera anche quello è molto carino però cerco di leggere inizio tanti libri qualcuno ogni tanto lo finisco in realtà è un atteggiamento molto sano i libri non vanno letti per forza fino in fondo anzi anche io sono di quelli che ha la coda di lettura più lunga di quello che è il tempo residuo che avrò per leggere quindi è così spesso a un certo punto può si prendere conto che magari non erano esattamente quello che si pensava tra l'altro il libro che vi consigliato prima quello che stavi leggendo per chi ci ascolta solo tramite il podcast è Modern Software Engineering di David Farley yes giusto giusto bene tanti nel senso questo qui remote beh quello cose nati in tempi assolutamente non sospetti ma adesso secondo me non c'è manager che non debba avere questo remote di di dei nostri amici di di Basecamp e un altro classicone secondo me di di project management quindi per tornare una roba un po' più se vuoi generale di processo è del Toyota Way secondo me è del Toyota Way è veramente bello sia sulla gestione di cioè fa quello che dicevamo prima cioè pensare che la gestione delle persone è parte della gestione di un processo cioè un manager comunque deve gestire dei processi che consegnano del valore con tutto quello che serve all'interno di questi processi quindi ci sono c'è il team ma ci sono i partner con cui lavori ci sono le tecnologie che scegli ci sono i processi che metti in piedi eccetera 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 beh direi ottimi ottimi suggerimenti come libri molto belli poi alcuni non li conoscevo tra l'altro Casproff è veramente un bel personaggio quindi molto bello e speriamo con la situazione con la situazione in Russia adesso infatti adesso c'è questo particolare no per il resto speriamo dai di aver aiutato qualche CTO a smantellare il proprio concetto da one man band e anche magari chi si aspetta che un CTO abbia un po' questo ruolo abbia compreso che in realtà non è l'approccio giusto dai speriamo che sia un po' il messaggio uscito da oggi e che quando gli chiedi se questo weekend facciamo qualcosa non ti rispondano tutti no perché devo lavorare esatto bene bene Fabrizio è stato un piacere fare una chiacchierata con te su questi temi grazie ancora e ci vediamo alla prossima nel sito lunch grazie grazie Alex a te ciao 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 ciao